Di servizi, pronto soccorso intasati, stilicidio dei reparti che chiudono a causa della mancanza di medici, come è avvenuto a Vibo Valencia, il primo passo verso il collasso dell'intero spreto ospedaliera. Vuole arginare questa deriva il via libera alle assunzioni previste nell'emendamento della Movimento 5 Stelle al decreto sanità, che due giorni addietro è stato provato dalla Commissione Affari Sociali della Camera e si appresta ad essere convertito in legge. Il provvedimento prevede lo sblocco del turnover in tutte le regioni di piano di rientro, una boccata d'ossigeno importante visto lo stallo in cui versa oggi il reclutamento del personale. Tra le cause anche i tentennamenti e le paure di management. In realtà, al di là di una direttiva di fida informale del commissario Saverio Cotticelli, che pone dei paletti alle assunzioni non strettamente necessarie, il temuto blocco del turnover conseguente all'esito negativo dell'ultimo tavolo a duce in Calabria non c'è stato. Certo, l'imminenza delle europee, anziché accelerare l'attività istituzionale, la frena. Anche la nomina dei commissari aziendali, prevista dal decreto Calabria, sempre infatti destinata a slittare. La scelta dei vertici che toglie il sonno alle aziende è oramai infatti demandata al Consiglio dei Ministri, in particolare a Giulia Grillo, vista l'indisponibilità del presidente Oliverio a condividere con Cotticelli e Schell, la rosa dei nomi.